Eccoci, buonasera, il telegiornale parte con il braccio di ferro, questa volta diretto praticamente, in contemporanea quasi, tra Grillo e Renzi. Durissimo l'appello di Grillo che parla degli avversari nella sfida al voto referendario come dei futuri serial killer delle nuove generazioni. Altrettanto dura è la replica di Renzi che accusa il fondatore dei 5 Stelle di distogliere l'attenzione dai guai palermitani delle firme false per il movimento. Insomma, colpi bassi e colpi duri a meno 13 dal voto referendario. Nel momento in cui l'incertezza viene somatizzata anche dagli ambienti economici e finanziari, al di là delle prese di posizione delle grandi banche d'affari, degli istituti e degli osservatori che temono che l'Italia sia al vento della speculazione, soprattutto se non ci sarà in un caso o nell'area un voto netto, certo. E poi c'è l'altro fenomeno, quella linea zigzag che separa a volte in modo inaspettato le figure della cultura, dell'informazione, dello spettacolo, oltre che della politica, sulla scelta se votare sì o no. Ma vedremo anche che, da venerdì scorso, lo sapete, non si possono divulgare gli esiti dei sondaggi sul referendum del 4 dicembre. Però si può continuare a vedere come andrebbero le cose se si votasse oggi per le elezioni politiche. E anche questo è un termometro della situazione e vedremo come anche oggi non manchino a questo riguardo le sorprese. Ma poi vedremo altri due fenomeni che arrivano dall'Europa, dalle parti diverse dell'Europa. Da un lato quella che è stata la grande alleanza franco-tedesca, che per noi ha anche un'immagine simbolica di cinque anni fa. Ricordate quella risatina comune, quel sorrisetto di intesa tra la Merkel e Sarkozy? Bene, ieri, proprio nella giornata di ieri, si sono separati definitivamente i destini dei due. Mentre a Berlino la Merkel annunciava la sua quarta candidatura alla cancelleria per il voto dell'anno prossimo, il voto per l'anno prossimo in Francia, alle presidenziali, perde già la candidatura di Sarkozy, largamente battuto alle primarie del centro-destra. E che ha dovuto pronunciare, bon gré, mal gré, si dirà, là in Francia, un discorso di commiato dalla vita politica, a questo punto ogni sua velleità futura è fuori discussione. Mentre arriva da un angolo dell'Europa, da Kaliningrad, la notizia che da parte russa sono stati schierati missili e disposti missili antinave, un nuovo innalzamento dell'allerta e anche, si dirà, da parte occidentale della provocazione attorno al territorio dell'Ucraina. Poi c'è da vedere altre vicende che riguardano ad esempio anche la cronaca, ma non si potrà non parlare, ed è doveroso parlarne, del nuovo passo del Papa, che dice si perdonino le donne che hanno abortito e i medici che le hanno aiutate. Questo è altro, 30 secondi, i titoli del nostro giornale. Campagna referendaria dal clima sempre più infuocato, durissimo scontro oggi tra Grillo e Renzi, il leader 5 Stelle alza i toni e in un video dice abbiamo di fronte dei serial killer che vogliono attentare alla vita dei nostri figli. È un tranello per sviare l'attenzione, risponde Renzi, sono in difficoltà per le firme false. E sull'esito del voto del 4 dicembre il mondo della finanza prevede turbolenza, rischi di speculazioni. Secondo il Financial Times l'Italia può anche finire fuori dall'euro, mentre Goldman Sachs definisce la consultazione un rischio per le previsioni di crescita del nostro paese. E fuori dalla politica, il voto divide anche soldalizi consolidati, da affinità intellettuali, artistiche o professionali, e da Sorrentino per il sì, conservillo per il no, alla divaricazione tra Santoro, Travaglio e Vauro, tra Camilleri e Zingaretti. E ce ne sono anche tante altre. Da venire al discorso silenzio sui sondaggi referendari, ma si può continuare con l'appuntamento, quello per come andrebbero le cose se si votasse oggi per le politiche. E tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle c'è virtualmente un pareggio in questo momento, però se ci fosse il ballottaggio le cose andrebbero poi diversamente. Salvini fa un balzo in avanti, va indietro Forza Italia. Un leader europeo lascia, un altro rilancia. L'ex presidente francese Sarkozy, sconfitto clamorosamente alle primarie del centro-destra, dice addio alla politica, mentre la Merkel, a quasi un anno dalle elezioni, annuncia che correrà per il suo quarto mandato. I sacerdoti potranno continuare ad assolvere in confessione chi pratica o procura l'aborto. La svolta del Papa nella lettera Misericordia et Miseria è pubblicata a conclusione del Giubileo. L'aborto è un peccato grave, ha ribadito Francesco, ma nessun ostacolo deve porsi tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio. Buonasera, quindi ancora e sempre più referendum in primo piano. Sempre di più perché oggi sono scesi in campo contemporaneamente e usando lo stesso mezzo, lo stesso social network, i due principali duellanti, che sono, per chi non l'avesse ancora capito, Beppe Grillo e Matteo Renzi. Già, perché? Vediamo. Grillo attacca, Matteo risponde. Tutto succede su Facebook, messaggi video agli elettori a due settimane scarse dal voto. Otto minuti netti per Grillo, diretta di quasi un'ora per il Premier. Tutti e due, dietro una scrivania. La collocazione usuale per Renzi alle quespalle, riappare la bandiera europea, meno per Grillo che si concede unico vezzo, una statuetta caricatura di Silvio Berlusconi poggiata sulla libreria. E all'inizio sembra che quella del leader 5 stelle sia una scelta stilistica, immagine istituzionale per un appello al voto contro una riforma inutile, ma dura poco. Siamo oltre la dittatura, perché fosse una dittatura e si facesse riconoscere, un Pinochet, un generale, con le medaglie, che dice sono un dittatore, allora uno si organizza, diventa in clandestinità, fa il carbonaro, reagisce, fa delle cose. Grillo è in perfetta malafede, replica Renzi, per il Premier. I 5 stelle, come tutte le altre forze politiche schierate per il no, puntano semplicemente a difendere la poltrona. Vogliono tornare ad un sistema di veti e controveti, difendono la casta per questo. Se il no avrà la meglio, Renzi rimette sul piatto la sua testa. Loro pensano che con questo voto si possa tornare a un sistema in cui si fanno gli inciuci in Parlamento. E quindi è il motivo per cui io non sarò della partita nel caso in cui le cose vadano male. Gli inciuci li fa a Renzi con i poteri forti, la replica di Grillo. La riforma Boschi introduce la clausola di supremazia. Questo vuol dire, attacca il leader 5 stelle, che il potere viene accentrato sottraendolo alle regioni, che ora non potranno più opporsi allo sbarco delle grandi multinazionali, pronte a prendersi tutto. Ma sappiate che abbiamo di fronte dei serial killer della vita dei nostri figli fra vent'anni. Ma quali serial killer sono loro che non pensano al futuro dei nostri figli? Non hanno veri argomenti, volevano cambiare ed ora difendono il CNEL, il bicameralismo. Non cadete nel tranello di Beppe Grillo. Beppe Grillo vuole che noi non parliamo di questioni concrete. Lui vuole parlare di frasi come quella a effetto sui serial killer perché deve cancellare la questione delle firme false e dell'affittopoli grillina. Temo che non ce la farà. Personalizza le accuse Renzi. Nel mirino finisce uno dei big 5 stelle Alessandro Di Battista che in tre anni e mezzo di Parlamento ha preso uno stipendio in media di 10.000 euro al mese, il doppio di quanto prendo io. Votate no, dimostrate di non esservi mangiati il cervello. Vogliono farvi credere che la colpa della crisi è vostra ma è un trucco, una frode. La chiusura invece del video di Beppe Grillo. E mancano ancora 13 giorni. Questa è la preoccupazione che avanti di questo passo le accuse e anche le macchinazioni presunte o denunciate si facciano sempre più toni truanti e poco credibili. Il problema è serio, è un problema serissimo di garantire al cittadino elettore che andrà al voto se deciderà di andarci il 4 di dicembre una chiara scelta tra il sì e il no non tra uno che dà del killer all'altro e uno che dà dal ladro all'altro. Ma insomma, questa è la situazione che viviamo in questo momento e d'altronde l'economia e la finanza somatizzano questo stesso nervosismo. L'ultima a riallineare le stime al ribasso sulla crescita italiana è l'Istat che questa mattina ha abbassato di tre decimali di punto da più 1,1% a più 0,8% il dato sul PIL di quest'anno e per il 2017 ipotizza un più 0,9% mentre, come è noto, il governo spera in un più 1%. Le turbulenze dei mercati non fanno bene agli sforzi per far ripartire la macchina economica italiana, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica e non fanno bene dunque nemmeno alle proiezioni sui mesi futuri. Non parla di condizionamenti derivanti da possibili stravolgimenti politici, l'Istat, ma il riferimento alle eventuali turbulenze in borsa fa subito pensare all'ormai imminente scadenza referendaria. Un pensiero reso esplicito in poco tempo da due importanti riferimenti della finanza internazionale. Da una parte il Financial Times che arriva a ipotizzare un'uscita dell'Italia dall'euro in caso di vittoria del no. Dall'altra Goldman Sachs che definisce il referendum costituzionale un rischio materiale per le previsioni di crescita in Italia. Ma la banca d'affari americana si spinge anche oltre scrivendo che se vincesse il no ostacolerebbe gli sforzi per ricapitalizzare le banche italiane più deboli. Un processo che è già stato con ogni probabilità posticipato al 2017. Le banche appunto che siano il tallone d'Achille del sistema economico e finanziario italiano ormai non è un mistero per nessuno e i riscontri sui mercati continuano a confermarlo oggi in una seduta in cui Piazza Affari ha sostanzialmente tenuto è stato ancora una volta il settore creditizio a segnare il passo segno negativo per tutti con il punto più basso e non è certo una novità per Montepaschi meno 4,6% a influire negativamente sul valore del titolo il crollo delle obbligazioni subordinate MPS. Era il giorno del CDA che doveva esaminare lo stato di avanzamento del piano di salvataggio in vista dell'Assemblea di giovedì ma il motivo del nuovo tonfo è un altro gli investitori soprattutto quelli non istituzionali preferiscono monetizzare a prezzi ridotti piuttosto che convertire in azioni a un valore più alto che però potrebbe rapidamente scendere sotto i colpi del mercato. Eppure la necessità di un settore finanziario sano e competitivo è stata ribadita oggi all'Europarlamento dal presidente della BCE Mario Draghi che ancora una volta non ha potuto fare a meno di sottolineare come per favorire la crescita l'attuazione delle riforme strutturali deve essere accelerata in modo sostanziale. E la sfida però torniamo a quella la sfida tra il sì e il no divide non soltanto gli schieramenti e non tanto nella logica quella classica novecentesca destra e sinistra ma nella logica semmai tra governo e opposizioni con alleanze che ciascuno inputa all'altro come e perché imbarazzanti. Nei vari ambiti però della nostra vita più esposta quella della cultura dello spettacolo dello stesso giornalismo invece le scelte in libertà spezzano anche sodalizi intese rapporti strettissimi che durano da sempre dimostrano come almeno nel mondo libero dalla politica non ci sono le logiche del riflesso condizionato. di là dell'oceano c'era chi come Woody Allen dichiarava di votare la Clinton e chi come Clint Eastwood al contrario ma con la stessa identica scarsa convinzione Trump si pensi oppure no che un qualche vento possa arrivare da oltre atlantico a condizionare il referendum di sicuro a bordo campo della nostra politica tra giornalismo e spettacolo sono già in piena circolazione refoli di sì o di no che la scadenza del 4 dicembre sembra avervi animato intellettuali e personaggi dello spettacolo con film adesioni appelli si sono sempre mostrati generosi ma mai come stavolta il brivido della drastica alternativa sembra essere penetrato così in profondità arrivando a scompaginare stili apocalittici e integrati prendi Benigni per esempio uno dei primi a dichiararsi per il sì con tanto di trasferta alla Casa Bianca prendi regista Paolo Sorrentino che si colloca dalla parte del sì ben sapendo che il suo attore Feticcio Servillo la grande bellezza l'ha trovata dalla parte opposta o prendi anche lo stesso Michele Santoro per esempio che sulle orme di Montale preferisce dire quel che non voterà il no piuttosto che quel che voterà mentre i suoi ex partner televisivi di voce Penarello Travaglio e Bauro hanno scelto proprio il no mentre voterà Sigat Lerner emblematica la divisione poi tra Andrea Camilleri padre del commissario Montalbano e colui che del personaggio da lui inventato ha fatto le fortune televisive ovvero Luca Zingaretti lo scrittore con no l'attore con sì divisioni che stanno già mettendo a dura prova schieramenti più o meno consolidati con guizzi e sussulti che non ti aspetti specie nel mondo dello spettacolo soprattutto dalla parte del SIP perché se il no della Ferilli della Guerritore della Mannoio di Elio Germano non stupiscono dall'altra parte vedono un blocco non esattamente omogeneo andare incontro al governo dicendo sì alla sua riforma costituzionale guidato dai registi Virzi Salvatore Semmoccia non certo sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda artistica vertiginosa l'alternativa tra Fedez no e Bocelli sì tutto materiale possibile per Crozza se non fosse che anche lui entra nell'album delle figurine referendarie nella pagina del no e aspettiamoci anche di completare l'album di queste figurine da qui al 2 dicembre l'ultimo giorno della campagna referendaria anche se vivremo qualcosa di straniante perché poi a mezzanotte di venerdì 2 finisce appunto la campagna referendaria ma sui social network sui giornali non in televisione continuerà tranquillamente la battaglia tranquillamente si fa per dire visto le bordate che si danno tra il sì e il no da quello che è sicuro è che da 15 giorni prima del voto non si possono più trasmettere sondaggi gli esiti dei sondaggi su come si voterà il 4 dicembre si può andare avanti però e lo facciamo come ogni lunedì per quanto riguarda le intenzioni di voto se si andasse oggi al voto vediamo insieme il PD risupera come vedete dello 0,2 guadagnando proprio lo 0,2 il Movimento 5 Stelle 38 contro 36 il Movimento di Grillo ha perso lo 0,6% in questa settimana la Lega Nord fa un balzo di 1,1 andando al 13,1% quasi tutto perso da Forza Italia che passa dall'11,4 al 10,5 Fratelli d'Italia guadagna lo 0,1 al 4,2 Nuovo Centrodestra e Udc 3,4 meno 0,2 Sinistra Italiana 3,1 meno 0,3 c'è da aggiungere che se si aggregasse cosa sempre poco facile in questa fase tutto il Centrodestra in un'unica lista andrebbero così le cose PD 31,4 Movimento 5 Stelle 31,2 Centrodestra 28,3 Chi va al ballottaggio se ci andassero 5 Stelle e PD la battaglia sembrerebbe segnata 53,9 per i 5 Stelle 46,1 per il PD se fosse tra PD e Centrodestra 53,8 per il PD 46,2 per il Centrodestra se fosse tra 5 Stelle e Centrodestra 58,7 a 41,3 Masia possiamo dire veramente pochi cambiamenti se non quel sorpasso al vertice diciamo ma poi vediamo che se si va avanti con il meccanismo dell'Italicum poi la vera battaglia è quella al ballottaggio ecco ha detto bene ma visto che non sappiamo quanto l'Italicum riuscirà a perdurare se ci saranno dei cambiamenti io direi facciamo grande intenzione soprattutto al primo prospetto quello delle liste come sono oggi perché in realtà pochi cambiamenti ma se andiamo a vedere poi insomma 5 Stelle hanno perso qualcosina e sono sostanzialmente appagliati al PD anche in merito anche in virtù delle cosiddette firme false o copiate quanto meno in Sicilia e poi la Lega Nord ha fatto un bel balzo anche perché in Forza Italia questa settimana abbiamo registrato un po' una mini frattura una rottura tra diciamo Berlusconi e Parisi c'è stata una sostanziale epurazione i Parisi anzi direi che prossima settimana inizieremo a testare anche il suo nuovo movimento per vedere effettivamente quanto pesa quindi in realtà qualche spostamento non irrilevante c'è stato anche perché poi le cose come sappiamo cambiano cambiano in fretta e anche la legge elettorale certamente in grande dubbio senta Masia le faccio una domanda a tradimento siccome non parleremo del referendum dal suo punto di vista fino alla sera del 4 ma noi la sera del 4 facciamo qualcosa? ma io penso proprio di sì credo che credo proprio di sì ci darà un exit poll alle 23 sull'esito? io direi proprio di sì magari un secondo e poi andiamo avanti vediamo come evolve la nottata va bene allora comunque noi ci vediamo ancora lunedì prossimo ancora per i sondaggi sulle intenzioni di voto grazie Masia andiamo a vedere che mentre noi andiamo a scoprire le carte dei leader politici e vediamo se Forza Italia di Berlusconi sale o scende sicuramente il cavaliere o ex cavaliere dipende adesso dai punti di vista tra le associazioni il cavaliere del lavoro è sopravvissuto politicamente almeno a uno dei due del famoso sorrisino era l'ottobre del 2011 quando a Bruxelles in conferenza stampa Angela Merkel e Nicola Sarkozy sorridevano Ilari e complici sull'efficacia dei provvedimenti dell'allora premier Berlusconi per difendere l'Italia dall'attacco speculativo cinque anni dopo il destino dei due si separa nello stesso giorno Sarkozy ieri ha dovuto incassare la bocciatura alle primarie del centrodestra francese in favore di Alain Juppé e François Fillon quest'ultima vera sorpresa il vincitore del ballottaggio la prossima domenica i sondaggi ipotizzano Fillon dovrà vedersela con tutta probabilità con la leader del fronte nazionale Marine Le Pen a meno che i socialisti non tirino fuori spiazzante che certo non può essere l'uscente Hollande è tempo per me di cominciare una vita con più passioni private e meno passioni pubbliche ha commentato l'aconico e sconfitto Sarkozy chi invece può guardare con fiducia al suo futuro è Frau Merkel nelle stesse ore nelle quali Sarkozy vedeva profilarsi il tramonto politico la cancelliera tedesca annunciava la sua intenzione a candidarsi per un quarto mandato ho appena comunicato alla direzione del mio partito che sono pronta a presentarmi al congresso di Essen come candidata alla guida della CDU annunciato in conferenza stampa e nella mia convinzione questo significa automaticamente essere candidata alle elezioni per la cancelleria del 2017 Angela Merkel al momento non ha rivali che possano contrastarla stando ai sondaggi il 55% dei tedeschi sarebbe favorevole ad un suo quarto mandato mentre il 39% sarebbe contrario ad agosto i favorevoli erano il 42% e i contrari il 50% i tedeschi sembrano quindi averle perdonato all'azzardo di aver spalancato le porte della Germania ad un milione di profughi soprattutto siriani l'hanno passato con tutti i disagi che ha comportato a pesare sulla sua decisione arrivata senza attendere il congresso della CDU sarebbe stato anche il risultato delle elezioni americane la vittoria in attesa di Trump col suo disimpegno in Europa ma soprattutto le parole di Obama ricevuto nei giorni scorsi a Berlino una sorta di investitura da parte del presidente uscente nel nome della continuità e dei valori liberali ma restiamo alla Francia perché oggi il ministro dell'interno Casneuve ha annunciato che sono stati arrestati una serie di cittadini francesi e di immigrati tutti accomunati dalla fede islamica che sarebbero stati in avanzato stato di preparazione di un nuovo grave attentato si parla di un attentato che si doveva portare contro Strasburgo poi si è precisato proprio questa sera che l'obiettivo era ancora una volta la capitale Parigi secondo gli inquirenti i sette che sono stati arrestati di nazionalità francese afghana e marocchina stavano preparando un attentato a un posto di polizia un commissariato o comunque un ambiente di pertinenza delle forze dell'ordine francese appunto nella capitale mentre prima era stato detto a Strasburgo tra tutti i sette arrestati solo il marocchino che non risiede in Francia e era stato segnalato dall'intelligence di un paese estero gli altri erano del tutto sconosciuti ai servizi di sicurezza e questo crea ulteriore apprensione per la invisibilità di tanti militanti aspiranti e guerrieri dell'Isis pronti a colpire con azioni terroristiche in Francia ma vediamo che c'è un altro elemento in questo momento di turbativa e abbiamo visto che Filon l'ex premier proprio ai tempi di Sarkozy sarà il probabile contendente rispetto a Marine Le Pen per le presidenziali francesi cosa hanno in comune? Sono molto vicini tutte e due a Vladimir Putin Filon è considerato il politico francese più attento alle ragioni del Cremlino dopo le elezioni di Trump forse il pendolo si sposta verso Mosca e verso il suo capo ma intanto da parte russa non si rinuncia a una serie di misure di atti anche dimostrativi Prima c'era il sospetto adesso c'è la certezza la Russia ha schierato missili antinave nell'enclave baltica di Kaliningrad si tratta di missili Bastion che dall'inizio di novembre vengono utilizzati in Siria non solo il presidente della commissione difesa della camera Viktor Ozerov ha annunciato che presto saranno schierati anche i missili Iskander e gli S-400 sistema di difesa antiaerea i paesi del blocco dell'est quelli che facevano parte dell'unione sovietica e del patto di Varsavia come Lituania e Polonia tra le quali si trova Kaliningrad sentendosi sempre più sotto la minaccia di Mosca avevano da tempo la certezza che si trattasse solo di una questione di tempo dopo l'invasione e l'annessione della Crimea e la guerra scatenata nel Donbass in Ucraina la politica russa su ciò che continua a considerare cortile di casa è ben chiara gli attacchi informatici e le esercitazioni militari ai confini dei paesi baltici le simulazioni di attacchi a Norvegia Svezia e Finlandia hanno aumentato l'allarme al punto che allo scorso vertice nato di Varsavia il segretario Stoltenberg aveva ribadito che l'alleanza resta pronta intervenire in difesa di un paese membro sulla base dell'articolo 5 un attacco ad un paese nato e un attacco all'intera alleanza diplomaticamente aveva concluso che certo non si stava tornando alla guerra fredda ma i sintomi c'erano tutti nel 2014 in questi anni di escalation della tensione nei rapporti tra russi e occidente Barack Obama ha deciso di inviare mille militari nella base in Romania dove oltre a quella in Turchia e Spagna sono arrivati nuovi sistemi di difesa missilistici ufficialmente si tratta di scudi pensati per fronteggiare eventuali minacce terroristiche che potevano arrivare da Siria e da Iran non certo dalla Russia ma a due anni di distanza sono proprio gli attori che oggi sono alleati nel teatro siriano vedremo vedremo tra l'altro Kaliningrad è la ex Königsberg la patria di Manuel Kant una volta la si studiava per questo ora è un luogo una pedina di questa sfida strategica che in realtà poi vedrete non culminerà in nulla di grave proprio perché il pendolo si sta portando dalla parte di una maggiore compressione tra quelli che una volta erano est e ovest anche dal punto di vista della contrapposizione ideologica e di sistema ma adesso andiamo a vedere una vicenda che sfiora anche l'Inps che quindi per questo dà un brivido al nostro sistema chiamiamolo così di previdenza chiamiamolo così il brivido ovviamente e perché perché è stato arrestato un personaggio importante nel mondo dei call center e fra l'altro questo riporta qualche apprensione per il futuro dell'intero sistema dei call center in Italia a Milano poche ore fa è stato arrestato Roberto Boggio fiorentino di 57 anni esperto di telecomunicazioni il re dei call center intercettato dai finanzieri del nucleo di polizia valutaria dice che gestisce in Puglia e precisamente a Bari a Lecce due call center con un migliaio di persone ed è presente nel mondo con 30.000 addetti la questione è l'appalto vinto dalla multinazionale svedese dei call center Transcom di cui Boggio è amministratore e socio per il call center dell'Inps l'ente previdenziale più grande d'Europa dopo la fusione del 2008 con Inail un appalto che comincia nel 2008 con 25 milioni l'anno e di proroga in proroga grazie anche all'aiuto dell'ex direttore generale Crecco arriva a 450 milioni per il biennio 2016 2017 stai tranquillo che per un altro anno l'avemo scappottato dice Pizza ho sentito Boeri risponde Boggio e Pizza lo ferma Boeri ci penso io quando è il momento è amico di ma siamo a livelli altissimi con Sarmi se gli dico una cosa la fa i contenuti dell'appalto sono tuttora difficili da decifrare per la procura che vorrebbe indagare per truffa e perfino per la stessa IMS che non sa stabilire i criteri con cui liquida le fatture alla Transcom c'è una base a forfè e il resto arriva col numero di contatti che nessuno riesce a controllare una confusione emblema della stagione più difficile per il sistema col center Italia travolto dalla concorrenza internazionale che delocalizza abbassa i prezzi e provoca esuberi in Italia gli operatori del settore sono 80 mila il 60% lavora part time o con contratti di solidarietà l'azienda Regina è alma viva a 9 mila dipendenti ma quelli di Roma e Napoli 2.500 sono a rischio licenziamento mentre gran parte dei 3 mila di Palermo vivono una situazione super critica e restano in piedi solo grazie agli ammortizzatori sociali se ne parlerà è tanto ma in realtà è proprio quello che ci si poteva aspettare dal Papa all'indomani della chiusura di quello che è stato il Giubileo della Misericordia non c'è legge né precetto che possa impedire a Dio di riapracciare il figlio che torna da lui riconoscendo di avere sbagliato sono queste le parole con le quali Papa Francesco nella lettera apostolica di fine Giubileo concede ai sacerdoti di assolvere in confessione tutti coloro coinvolti in un aborto tutti ci tiene a sottolineare il Pontefice dunque non solo le donne o le famiglie che hanno preso la decisione di terminare una gravidanza ma chiunque vi abbia partecipato come medici ed infermieri il Papa rende così definitivo un'apertura fatta ai sacerdoti solamente per il periodo giubilare anche nei casi più complessi si legge nella lettera resa nota oggi per i quali si è tentati di far prevalere una giustizia che deriva solo dalle norme si deve credere nella forza che scaturisce dalla grazia divina di fatto in questo modo il Papa impone di andare oltre quanto fino ad ora stabilito dal diritto canonico secondo il quale per le donne che abortivano era obbligatoria la scomunica l'aborto il Papa lo sottolinea con forza resta un peccato di estrema gravità ma la facoltà di perdonare diviene una pietra angolare della spinta di Francesco verso una chiesa sempre più inclusiva che chiede ai suoi sacerdoti di non escludere mai le famiglie ferite da un evento così traumatico ma anzi di affiancarle e lavorare con loro per recuperare la vita della chiesa partendo proprio dal pentimento dalla piena confessione e dal ritorno alla comunione l'altra battaglia che dal primo giorno il Papa Sudamericano sta portando avanti è quella per una chiesa sempre più vicina a chi soffre come Francesco scrive nella lettera oggi una chiesa orientata verso i poveri e le periferie si parte con l'istituzione della giornata mondiale dei poveri da celebrare nell'ultima domenica di novembre per ricordare a tutti come proprio la povertà sia il cuore stesso del Vangelo il Papa a fine giubileo chiede a ciascun cristiano di essere creativo nell'aiutare il prossimo in difficoltà anche inventando nuove forme di opere di misericordia adatte ai nostri templi applicando sottolinea il Pontefice la fantasia della misericordia particolarmente verso le persone private di dignità e verso i bambini maltrattati e resi schiavi dopo di noi a otto e mezzo Lilli Gruber ospita Pier Ferdinando Casini Andrea Scanzi e Federico Rampini noi ci fermiamo Sostanzialmente invariate le borse europee nella loro chiusura di oggi in questo momento il Dow Jones a Wall Street guadagna lo 0,4% 0,40% lo 0,82% invece il Nasdaq vi lascio a Lilli Gruber buonasera domani a Lilli Gruber